Uh, dottori, buongiorno! Ve lo dico già, questo video molto probabilmente me lo banneranno, quindi guardatelo tutto finché siete in tempo, perché il tema di oggi è molto caldo, molto scottante. Infatti, non so se l'avete sentito, ma è finalmente passata in Italia la legislazione che regolamenta tutta la fiscalità sulle nostre amiche criptovalute. E già era nell'aria, già se ne era parlato nell'anno precedente, che tutti gli exchange che noi utilizziamo, dove abbiamo dei bitcoin comprati con KYC, cioè con i nostri documenti, insomma questi dati sarebbero stati mandati automaticamente allo Stato. E quindi ho ricevuto diverse richieste di ragazzi che mi hanno detto, Marco, ma c'è modo sti bitcoin di farli tornare anonimi? Perché oggi scopriremo, innanzitutto, che quello di cui, insomma, parliamo non è solamente un problema di fiscalità, è quello, ok? Quindi già tutto questo video sarà tutto molto borderline, perché non sarà un video per evadere, sarà un video dove capiremo come mai questa cosa è un problema per la nostra sicurezza. Insomma, quindi, cerchiamo di capire come fare, già lo so, sarà un video infinito, sarà lunghissimo, ma armiamoci di pazienza, perché questa cosa è importantissima. Io, lo dico già, metto già il disclaimer, è un video a titolo informativo, non dovete usare queste informazioni per fare cose losche, queste sono informazioni, fatene buon uso, mi raccomando, puro video, scopo, finirà malissimo questa cosa, finirà malissimo, lo so. Per chi ancora non mi conoscesse, sono Marco Costanza, un ragazzo che un annetto fa, ormai, minchia, è passato un anno, oh my god, si è licenziato, non lo so, imprende a un raptus, imprende a qualcosa, insomma, ho detto, oh, sta vita mi ha rotti i cabbasisi. E fidatevi che facevo il lavoro più bello del mondo, giuro, posto fisso, posto statale, staccato a casa, mutua fede, meglio che non ci penso, per parlare di vulgare finanza, cosa che già facevo un po' nel mio piccolo, dagli anni addietro, però ho detto, oh, a sto giro lo facciamo diventare un lavoro vero. E piano piano ci sto riuscendo, quindi condivido qua su YouTube il mio percorso, condivido le mie passioni, che ad oggi sono principalmente bitcoin, finanza, e diciamo produttività, crescita personale, queste cose un po' legate, no? Perché sono sempre lì che devo fare. Potete seguirmi su Instagram e vedere voi stessi con i vostri occhi le mie storie alle quattro e mezza con scritto e vivo un'altra grande giornata, mentendo spudoratamente. Il video che sto per fare avrei potuto farlo solamente tramite le consulenze, ma ho deciso di renderlo disponibile per tutti perché devo anche fare video YouTube. E quindi ho detto, vabbè, ascoltate, sta cosa la volete tutti, inutile che faccio 6.000 ore di consulenza. Mi farebbero comodo perché sono tanti soldi che mi entrano, però è giusto che anche la comunità sia informata su questi temi. E quindi, come potete ripagare questo sforzo in mani di questo video, che già so essere clamorosamente lungo? Non lo so, se vi piace, poi lasciate un mi piace, se non vi piace, poi lasciate un mi piace, se non l'avete visto, poi lasciate un mi piace, se non... Voi lasciate il mi piace e io sono contento, io sono contento. Banda alle ciance, ciancio alle bande, tuffiamoci nel blu, dipinto di blu, anzi nell'arancione, dipinto di arancione, e scopriamo come rendere anonimi i nostri Bitcoin. Allora, se ancora non avete fatto minchiate, non avete comprato Bitcoin tramite exchange con KYC, e vi ricordo che il KYC è quella pratica dove voi date i vostri documenti, caricate la carta di identità, cioè dite a chi... Scusate, però non mi... eh, è che minchia, grazie. Cazzo stavo dicendo. Ah, ok, il KYC è quella pratica dove voi date i vostri documenti, ma cioè tutto, cioè l'exchange sa chi siete, dove abitate, telefono, mail... Se ancora non avete fatto questa minchiata, ottimo, siete già uno step avanti, ma oggi analizzeremo anche il caso peggiore, cioè... Oh, Marco, io ormai gli ho comprati i Bitcoin con gli exchange. Quindi, premessa, punto di partenza standard, siamo un utente medio che ha comprato i propri Bitcoin su Crypto.com o su Binance. Ah, per chiudo una parentesi, io oggi vi parlerò solo di Bitcoin, perché se mi seguite da un po' lo sapete, se no ve lo dico, sono un po' massimalista. Cioè, per me tutte le altre cripto, va bene, roba per investirci, ok, speculazione, ma quello che realmente sarà il futuro dell'umanità è Bitcoin. Quindi oggi mi dedicherò a Bitcoin. Questo discorso lo potete applicare in generale per tutte le cripto, tranne alcune applicazioni, alcune cose che sono proprio per Bitcoin, ma insomma, ci sarà sempre la controparte anche tra le altre criptovalute, però oggi ci concentriamo su Bitcoin. Poi vedete voi di adattarlo in base alle shitcoin che avete in portafoglio. Allora, dobbiamo affrontare, se partiamo dalla situazione in cui ormai abbiamo comprato con KYC, principalmente due strade. La prima strada è la forward privacy, cioè la privacy da adesso in poi. Quindi io sono qua e devo dire, ok, adesso, fatemi capire un attimo come anonimizzare i prossimi Bitcoin che compro per non ricadere nello stesso errore. Se non li compro dall'exchange, dove diavolo li compro? Quelli che ho preso li posso rendere anonimi? Scopriremo questo. E poi anche la backward privacy, cioè capiremo quelli che hanno ormai il KYC sopra, come qualcuno che non siamo noi potrebbe pulirli. Faremo degli esempi di persone che magari potrebbero fare queste cose che noi però non facciamo, perché noi siamo delle brave persone. Ok? Ok. Tuffiamoci subito nella forward privacy. Allora, la primissima cosa da fare è quella di smettere immediatamente di comprare Bitcoin con KYC. Quindi io stoppo lì quello che ho comprato, ho comprato, ma non aggraviamo il danno. Lasciamo quelle robe là, sappiamo che hanno il KYC, iniziamo a comprare Bitcoin senza più l'uso di questi exchange. Eh ma Marco, ma come faccio? Ma dove li compro? Scusa, ma gli exchange vendono i Bitcoin? Non è che li posso andare a scavare per te? Come minchia faccio? Dove li trovo? Ci sono un sacco di soluzioni, che tra l'altro non ci crederai, alcune sono anche molto più comode dell'exchange, molto più semplici. Adesso ti spiego quali sono le principali. Ovviamente dalla meno, potremmo dire sicura, meno anonima, ecco, dalla meno anonima alla più anonima, dove però ovviamente la meno anonima è quella anche più comoda, la più anonima ovviamente è anche più scomoda. Ma vediamo tutti questi quattro metodi insieme, perché poi ognuno sceglierà quello che più preferisce. Primo metodo, esistono delle applicazioni che vi consentono di comprare tramite KYC Lite. Cosa vuol dire? Che io compro tramite un bonifico bancario, quindi c'è comunque il nome e cognome di qualcuno, perché questo bonifico non è detto che l'abbia fatto io, per comprare Bitcoin, perché comunque la parte di KYC ce l'ha già la banca, cioè quando la banca, cioè quando io mando un bonifico, loro sanno da chi è arrivato questo bonifico. Poi può fare il bonifico mia nonna e i Bitcoin, poi magari mia nonna me li regala perché magnanima. Però comunque c'è una sorta di KYC, qualcuno questi Bitcoin li ha comprati. Però appunto è Lite, cioè l'azienda non ha i vostri dati, non conosce il vostro indirizzo, non conosce quello, non conosce quell'altro, li conosce la banca, che già li conosceva prima, ma non li conosce l'azienda dai quali state comprando Bitcoin. Perché ricordiamoci, questo è un problema di sicurezza, e dopo lo capiremo meglio perché. Poi abbiamo le applicazioni che consentono di comprare Bitcoin da altri utenti. Anche qua si dividono in mille categorie, ci sono quelle più comode, più facili, o quelle un po' più scomode, ma che operano sotto Tor, decentralizzate. Anche qui però la cosa bella qual è? Che è un po' più scomodo, perché io quindi devo comprare Bitcoin da privati, non li compro più da aziende, da startup, che vendono Bitcoin come business, li compro da privati che li mettono appunto in vendita. Probabilmente questi Bitcoin costeranno un po' di più, perché appunto nel servizio c'è meno liquidità, ma in questo caso la sicurezza è ancora maggiore, perché io non sto facendo praticamente un bonifico a nessuna azienda che vende Bitcoin. Io posso comprare da queste persone, e ci sono diverse applicazioni che lo consentono, tramite bonifico, tramite Paypal, tramite carta, tramite contanti. Ci sono un sacco di sistemi, e ovviamente anche nel caso in cui facessi comunque il bonifico, cioè è come se io Marco faccia il bonifico ad Andrea, non c'è scritto che quel bonifico è per comprare dei Bitcoin. Quindi ecco che l'anonimato aumenta. Numero tre, qui iniziamo ad andare nel complesso, conoscere un miner. Quindi conosco qualcuno che li mina, conosco qualcuno di persona, non utilizzo applicazioni, non utilizzo niente. Guarda, sto qua li mina, lui li prende vergini, si chiamano vergini questi Bitcoin che arrivano dal mining perché sono stati creati, sono Bitcoin nuovi che non hanno mai fatto alcun giro di alcun wallet, e quindi sono iper puliti. Lo conosco, conosco delle persone, e posso andare a comprarli direttamente da là. Ovviamente capite che la difficoltà è mostruosa, perché voglio vedervi andare a comprare dei Bitcoin da un miner. Però magari qualcuno, trovate i contatti, sicuramente non consiglio questo metodo, a meno che voi non siate veramente iper dentro al settore, perché altrimenti prendervi delle inghiapettate è proprio la primissima cosa. Quindi eviterei, a meno che questa persona non la conosciate veramente bene. E per concludere, quarta modalità, fare voi stessi mining. Ora, qui le cose si complicano di molto, perché sicuramente non potete avviare una mining farm da soli, a meno che tu che mi stai guardando sia un multimilionario, e dici, avvio una mining farm, ok. Altrimenti ci sono due soluzioni, ma una, già vi dico, la buttiamo, la scartiamo subito. Ho chiesto un po' a degli esperti, e mi hanno confermato che il cloud mining praticamente sono tutti scam. E se mai esistessero non scam, comunque vi farebbero fare il KYC. Cos'è il cloud mining? Cioè io compro potenza di calcolo su un server, è come se io finanziassi qualcuno che va a fare mining per me, e poi mi desse dei bitcoin, anziché darmi il ritorno in euro. Queste cose qua, per quello che ho capito, tutti quelli che trovate online, praticamente 99.9%, sono scammate. Qualcuno ha anche fatto qualche network sopra questi sistemi, già l'avevo conosciuto, già lo sapevo che quelle erano scammate, ma pensavo magari qualcosa di legit si trovasse. No. Lasciate perdere, cloud mining da chiudere. Potete però entrare nelle mining pool, però come si entra nella mining pool con un miner? Quindi siete voi che dovete mettere a disposizione potenza di calcolo. Ora, vi voglio comunque a prendere dei miner, attaccarli alla rete, gestire il nodo, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, sinceramente, se parliamo di capitali bassi, anche questa è in ipotesi un'opzione che scarterei a prescindere. Se però avete un po' più di capitale e vi sentite di farla, questa cosa qua, ovviamente studiandola, questa invece è una cosa ottima, perché dalla mining pool non c'è assolutamente alcun KYC, non c'è alcuna persona di mezzo, non c'è niente. È tutto iper-anonimo, con le giuste accortezze, e quindi si potrebbe dire che la soluzione è migliore, però capite bene che il trade-off con la comodità è allucinante. Quindi, per me le soluzioni migliori rimangono le prime due, o KYC Lite, oppure applicazioni senza KYC. Adesso, per questioni di tempo, non vi ho fatto nomi, non vi ho portato esempi, primo perché non volevo indirizzarvi verso cose tra virgolette sbagliate, o cose dove poi non potevo approfondire, dirvi pro e contro di ogni applicazione, quindi, se la cosa vi interessa e volete che vi porti io gli esempi di quelle che già conosco di applicazioni migliori, poi ognuna pro e contro, per fare questo tipo di attività, ditemelo, arriviamo a 150 mi piace, visto che l'altro video 100 l'abbiamo fatto in due giorni, 150 ce la possiamo fare, se arrivo a 150 mi piace vi preparo il video dove parlo proprio esattamente di questi tipi di applicazioni e le vediamo nel pratico, le scarichiamo insieme, vediamo come si usano, come funzionano, facciamo degli esperimenti, quindi, fatemelo sapere se spolliciate che vi porto degli esempi concreti. Quindi, smettiamo di comprare sull'exchange e compriamo in maniera Nokia WC, primissima cosa. Seconda cosa, quelli che abbiamo adesso iniziamo a renderli anonimi, quindi, da qui in poi, quindi, tutti quei bitcoin hanno un passato, non diamogli più un futuro. Come fare? Anche qua, ragazzi, ci sono un mare di soluzioni, adesso io vi faccio qualche esempio, ma mi raccomando, bisogna studiare, informarsi e sapete cosa vi dico? Rincaro la dose. Se arriviamo a 200 mi piace sotto a questo video, cioè, che per me è una roba infattibile, vuol dire che veramente lo volete e quindi sono il primo a non veder l'ora di portarvi questa cosa qua perché vi interessa, vi porto anche lì in maniera pratica quali sono questi mixer di bitcoin e come si utilizzano. Scoprirete che è una cosa abbastanza facile, però ci sono diverse modalità, poi ognuno sceglierà la migliore, ma, tornando a noi, cosa sono questi mixer? Allora, cerco di rappresentarlo con un esempio abbastanza chiaro. Immaginate voi di avere delle monete, monete d'oro, con sopra la vostra faccia, con sopra la vostra firma. Quando voi pagate con quelle monete, tutti sanno che sono vostre, perché c'è la cosa stampata vostra, quindi tutti lo sanno. Allora, sapete cosa si sono inventati? Tutto questo può accadere su bitcoin? Mettiamo tutti insieme delle monete, quindi io, Andrea, Giacomo, Daniele, Filippo, le mettiamo tutti insieme. Le fondiamo, creiamo un nuovo lingotto d'oro, questo lingotto lo utilizziamo per ristampare delle nuove monete e dare ad ognuno quello che aveva messo all'inizio. Così, mi ritornano le monete, le stesse che avevo prima, ci sono delle fee, dei costi, ma sono minimi, insomma, nel caso ci facciamo un video fatto apposta e ve ne parlo. Cosa succede? Io, quindi ho delle monete che non sono più riconducibili a me perché hanno perso tutto. Nel momento in cui le ho fuse sono diventate tutte la stessa cosa e quando le ho ridivise e mo io come faccio a sapere chi aveva cosa e non posso più sapere gli indirizzi di chi sono. Ok? Io sapevo che tu avevi tre e quindi devi avere tre. Ma quali sono di questi tre? Perché io ne vedo 26 di coin che sono andati in giro e mo come faccio? Questo praticamente è quello che succede con i mixer. I mixer banalmente ci sono tre mixer principali che vengono utilizzati in bitcoin cioè Whirlpool, Join Market e CoinJoin e ognuno ha i propri poro e contro come potete immaginare. Quindi per il futuro avete capito benissimo cosa fare, no? Penso sia chiaro se non è chiaro prima di continuare riguardatevi questa parte imparatela bene ma insomma sono due minchiate le azioni le avete capite e possiamo proseguire andando a scoprire come sistemare il passato perché è lì la cosa difficile. Ora entriamo nella parte quella divertente. Quindi fatemi fare una premessa nuovamente perché è doverosa. Tutto quello che stiamo vedendo adesso perché io vi ho ripetuto più volte che è una questione di sicurezza tralasciamo la parte fiscale eccetera eccetera perché è un problema di sicurezza? perché quando io ho il KYC su dei bitcoin sono anche esposto a degli attacchi attacchi che possono essere di due tipi principalmente un attacco criminale quindi di persone organizzazioni va a sapere chi che conosce i miei bitcoin chi sono cosa faccio dove abito eccetera 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 e quindi potrebbe procurarmi seri danni o un attacco da parte statale vedremo anche un esempio molto molto chiaro di come questa cosa è già successa cioè un giorno qualcuno dello stato si potrebbe svegliare e dire quella cosa che io so che hai e so dove sei e so dove venirti a prendere non è legale ora me la prendo io no ma non prenderei mai le mie chiavi private gliele darete voi e senza fare neanche storia quindi fatta questa doverosa premessa andiamo a scoprire prima di tutto quale tipo di attacco criminale perché non c'è solamente quello che mi viene a riempire di mazzate sono fattibili quando noi abbiamo un KYC legato a dei bitcoin quante volte il sito italiano dell'agenzia delle entrate forse è stato bucato l'anno scorso di recente o quante volte anche un exchange altre soluzioni sono state bucate da hacker che non è che hanno rubato bitcoin hanno rubato dati e cosa c'è sui cui dati ovviamente tutto quello che riconduce quei bitcoin a me cosa potrebbe fare quindi un attaccante allora sicuramente la cosa più grave è quella che sa chi sono quanti bitcoin ho e dove abito viene a casa mia e dice dammi qua dammi qua dammi sti bitcoin che so che li hai ho visto controllato su e giù e quindi questa è la cosa più grave che potrebbe accadere e ragazzi non è così strano come si può pensare cioè una volta che un hacker buca un exchange un sito un qualcosa che contiene i vostri dati e poi giustamente magari non viene da chi c'ha 0.001 bitcoin che più lo sbatti che quello che ci guadagna ma se qualcuno c'ha delle cifre un po' più interessanti o vai a scoprire che quello è il mio vicino di casa magari è pericoloso quindi primissima cosa legata alla sicurezza potrebbe essere un po' meno cattivo e quindi potrebbe iniziare a fare del blackmailing quello che viene chiamato quindi invia delle mail un po' minatorie tra virgolette di blef però ad esempio immaginate qualcuno che vi scrive ciao Marco Costanza che abiti in via X che detieni questi bitcoin che hai comprato il giorno X che hai fatto passare da qua a qua sei nato questo giorno qui insomma uno che vi descrive completamente quello che avete fatto qualcuno che vi ha tracciato qualcuno che ha magari anche il vostro indirizzo IP sa delle informazioni che ha reperito anche dalle altre parti perché ha ottenuto la vostra mail il vostro numero di telefono capite bene che uno che vi scrive una mail o un messaggio con tutte queste informazioni addirittura vi chiama una volta che ha tutte queste informazioni capite bene che credergli è molto facile poi magari quella persona non ha intenzione di farci realmente del male ma può iniziarci a dire guarda che ho dei video tuoi compromettenti guarda che vengo e ti faccio questo vengo e ti faccio quell'altro e sul numero magari prendo la mail in list di un milione di persone la inviando un milione di persone sicuramente qualcuno che si caga sotto e subito paga c'è quindi questo è un altro problema di sicurezza molto molto importante o più banalmente che però è anche l'attacco che va più a segno del banale phishing io stesso che ragazzi sto attento a tutto mi ero fatto phishingare o fishare insomma mi ero fatto fottere i dati della carta di credito online tramite una mail e vi ripeto sto attento a tutto ma quando la cosa è organizzata benissimo ad esempio a me mi avevano fregato perché avevano preso il giorno esatto di rinnovo del mio della mia pec e mi hanno detto guardate che la pec non è stata rinnovata non siamo riusciti a fare il pagamento clicca qui per tipo ritentare per rifare il pagamento una roba del genere essendo il giorno esatto la mail conteneva tutte le informazioni mi diceva l'esatto sito dove io dovevo fare il pagamento e tutto quanto io da pirla ho cliccato sul link ho detto ok si è tutto regolare il sito mi sembra quello non ho controllato e questo purtroppo sono distrazioni che capitano e ciao ho offerto un bel viaggio a Casablanca a sto pezzo di merda però però ha vinto lui ha vinto lui e quindi immaginate mail di phishing dove di nuovo vi vengono scritti ciao Marco Costanza so che abiti lì che questi bitcoin che hai comprato che hai fatto di qua di là su e giù su questo sito ti ho inviato il codice sul telefono il messaggio lo troverai per ripristinare l'account per rimettere fare e dire ora magari siete voi e va tutto bene magari sono vostri genitori vostri parenti che magari sono meno attenti meno preparati a queste cose salutate i bitcoin e tanti saluti quindi capite bene che queste cose possono accadere sono reali meno informazioni di noi si hanno in giro più sarà difficile che vengano a romperci le palle quindi iniziamo a non dare troppi dati perché almeno prima che arrivano da noi ne devono prendere di polli attacchi di tipo criminale spostiamoci e andiamo a vedere gli attacchi di tipo statale ma Marco ma figurati se lo stato mi sequestrerà i miei bitcoin ma mica può farlo sono miei le chiavi private ce le ho io e non gliele darò mai vi ricordo una piccola data 5 aprile 1933 ordine esecutivo numero 6102 l'allora presidente degli Stati Uniti d'America Roosevelt si alza quella mattina lì decidendo che detenere l'oro era illegale e cosa fa ordina immediatamente la confisca di tutto l'oro che era detenuto dalle persone ora c'erano delle clausoline delle cosettine ma è molto affidabile già così come storia così capite bene come funziona cosa succede di prima istanza vanno subito dalle istituzioni dalle banche dalle grandi aziende dicono ascoltate qua dateci tutto l'oro dei vostri clienti non mi interessa di chi è di chi non è tutto l'oro di tutti i vostri clienti ora è mio punto e basta e non pensiate che l'impiegato della banca dice no dovrete passare sul mio cadavere questo è l'oro dei miei clienti non già mai dice prendili to stanno là stanno là tienila i chiavi questo è tutto quanto veditela tu e prendi tutto l'oro che ti serve una volta che hanno razzolato tutto quello che era facilissimo prendere hai iniziato ad andare un po' più nel profondo e uno può dire ma figurati mo' se mi vanno a prendere la persona a casa che per farvi un esempio c'era questa persona che aveva più di 300 chili d'oro messi in delle cassette di sicurezza e sapete cosa hanno fatto lui ci ha provato a difendersi anche con armi da fuoco ma se ti metti contro uno stato intero e sei da solo le tue probabilità di vincita sono molto molto piccole e quindi dopo così un tentativo di resistenza gli han detto ora anche tutto quell'oro è tuo e voi potreste pensare ma no ma io reagisco ma io non mi faccio fregare per chi non consegnava l'oro c'erano fino a 10.000 dollari di multa dell'epoca e minimo minimo 10 anni di carcere ora magari voi ve la sentite di dire no non do niente a nessuno ma se lo stato sa che tu li hai e li vuole e ti dice dammeli o ti fai 20 anni di galera non lo so ma secondo me qualcuno probabilmente gli ridarà magari non tutti magari qualcuno inizierà a farsi un po' dice ma no ma figurati ma se la maggior parte lo fa stai pur tranquillo che se tu rimani l'unico pirla a difendersi c'è poco da fare quindi siccome dubito che l'umanità intera si metterà d'accordo sul fare resistenza sulle restrizioni sulle cose ne abbiamo avuto un assaggio no in questi anni che quando qualcuno dice a solitamente le persone ne fanno A e quindi se rimani due pirla che dici B fatti tuoi rimani escluso questa cosa è molto più plausibile ed è già successa come dimostra la storia tra l'altro la cosa divertente non so se sapete perché di punto in bianco si è deciso di prendere tutto l'oro perché la Fed aveva bisogno di stampare altro denaro c'era ancora il gold standard all'epoca cioè tu potevi stampare per quanto oro detenevi e Roosevelt vado a citarvi testuali parole la ragione dichiarata per il decreto era che l'incetta di oro causata dalla difficile situazione economica stava bloccando la crescita economica e stava facendo peggiorare la depressione quindi la Fed ha detto noi dobbiamo stampare per salvare il mondo ma visto che voi pezzi di merda vi volete tenere l'oro anziché usare i nostri dollari adesso ve lo sequestriamo e noi stampiamo i dollari e state anche muti ma 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 andiamo nella storia più recente perché queste cose accadono anche i giorni nostri questo è successo in India non troppo tempo fa dove gran parte dell'oro è stato dichiarato illegale le autorità quindi cosa hanno fatto sono andate dai commercianti d'oro si sono fatti dare la lista di chi aveva comprato e quanto oro aveva comprato e sono andati casa per casa a sequestrare l'oro sono cose che possono accadere ora non accadranno dopo domani ok ne sono assolutamente convinto ma tra 10-15 anni chi lo sa cosa sarà successo e se oggi uno ci sta mettendo i propri risparmi o comunque ci sta mettendo dei soldi suoi su bitcoin anche che non c'è non dico che uno deve vendersi la casa per comprare bitcoin ma uno sta mettendo anche delle cifre che magari per lui sono importanti su bitcoin e qualcuno tra 10-15 anni decide di prendersele capite bene che forse pensare un po' prima al nostro anonimato era una cosa buona e giusta perché queste cose la storia ce le insegna sono già successe e possono accadere benissimo di nuovo per quanto è assurdo ci sembri possono accadere di nuovo allora pronti per la fase finale perché adesso dobbiamo capire ok però come li anonimizziamo quindi quelli che ormai sanno che c'ho come faccio a non farmi rifregare adesso lo diciamo subito fammi solamente chiederti una cosettina già che ci siamo già che siamo arrivati fin qua risulta dalle analytics che più della metà delle anzi ma praticamente quasi tutte le persone che guardano i miei video non siano iscritti vabbè passerò sopra questa cosa farò finta di non aver guardato questi dati se vi va volete darmi una mano a portare questa divulgazione a farla conoscere sempre più persone cliccate sto cazzo di bottoncino tetelo pollice in su una cosa così l'iscrizione soprattutto perché a me sinceramente non mi fa arrivare il cibo sul piatto però a youtube si perché youtube dice ah guarda sto stronzo che la persona piacciono e quindi facciamolo salire poi se faccio video di merda giustamente non lo fate altrimenti roviniamo l'umanità però se vi piace quello che faccio così ci può stare ci può stare avanti andiamo ad affrontare l'ultimo grande importantissimo che probabilmente mi farà bannare tutto il canale step per ottenere anonimato subito allora quelli che stiamo per vedere sono degli esempi esemplificativi informativi a scopo didattico non sono da utilizzare da prendere come consigli disclaimer ok facciamo così facciamo degli esempi di storie che potrebbero accadere nel futuro perché magari tra 10-15 anni arriva lo stato italiano l'Europa l'America chi che sia e vi chiede i bitcoin che voi giustamente avete fatto con il KWC avete comprato sono registrati a nome vostro e quelli si sanno cosa potrebbe succedere un sacco di cose diverse ad esempio quei bitcoin voi potreste averli persi anni prima e quando loro arrivano dite guardate io in realtà li ho persi sette anni fa non ho fatto la denuncia non ho fatto niente ma perché boh all'epoca per me era poca roba non sapevo e quindi non ho fatto la denuncia e non ce li sono più ora in questa ipotesi di questa storia si apre un po' un gioco dove qualcuno deve dimostrare che voi realmente detenete quei bitcoin voi dovete dimostrare in qualche modo che non li detenete più non so chi la possa spuntare ammesso che tutto sia la verità ovviamente sempre la verità però insomma è una situazione molto così molto incerta oppure cosa potrebbe accadere che questa persona in realtà negli anni precedenti quindi sette anni prima veramente abbia scritto su facebook su whatsapp tramite mail al supporto di un exchange di un'azienda di qualcosa aiuto non riesco a trovarli ho perso i miei bitcoin l'abbia fatto sapere in pubblico l'abbia detto ad amici apparenti insomma e abbia portato avanti per due o tre mesi questa ricerca è andata poi male quindi guardi caro stato io non ho fatto la denuncia però se lei fa guardare cioè ci sono tutte le prove online che io effettivamente ero disperato li stavo cercando di recuperare non ce l'ho fatta e ho detto vabbè lascio perdere però ci ho provato che eh non è una cosa che potrebbe potrebbe essere verosimile oppure c'è una terza opzione questa persona sette anni fa aveva effettivamente fatto la denuncia di smarrimento quindi si era recata dai carabinieri si era recata dalle autorità competenti aveva detto guardate ho fatto un giro in barca mi è caduta la chiavetta con i bitcoin sopra e ma le 24 parole ma cosa so perché andavano salvate non lo so boh mio figlio ha preso il foglio l'ha strappato insomma io già avevo comunque un documento sette anni fa che attestava che quelle cose le avevo perse augurandoci che quella storia sia vera perché poi quella persona deve fare molta attenzione nel caso abbia raccontato una palla ad utilizzare quei bitcoin perché poi se compro un biglietto aereo e ci finisce anche un solo satoshi che apparteneva a quella persona lì ma com'è che quei bitcoin che non erano più tuoi che avevi perso hanno comprato un biglietto aereo a tuo nome eccetera 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 c'è anche la brutta possibilità però che magari nessuno ti stia cagando nessuno ti stia calcolando tu arrivi lì dici ok devo denunciare il furto e poi qualcuno ti dia una grossa mano e magari te li ritrova quei bitcoin dice ok abbiamo le nostre indagini sono andate a buon fine abbiamo trovato il ladro le restituiamo i bitcoin e poi o li perdi un'altra volta però anche lì cioè è veramente un disastro e quindi bisogna capire il giusto compromesso che questa persona ha la giusta modalità la giusta storia che questa persona ha poi vissuto non posso fare sta vita però non posso fare sta vita ma ci sono anche altre storie che potrebbero accadere questa persona ad esempio potrebbe essere stata vittima di phishing questa persona potrebbe aver inviato i propri bitcoin per sbaglio a un indirizzo che gli è arrivato via mail da una persona anonima che aveva utilizzato tor era andato che ne so in un caffè a scrivere questa mail presa da una mail temporanea con un internet che non era suo con un dispositivo non suo senza informazioni sue e quindi guardate io non ho fatto denunce e cose però c'ho qua la mail di phishing che mi è arrivata sette anni fa io ho inviato tutti i bitcoin a quell'indirizzo e poi ho scoperto che era una truffa però ormai è andato ormai li ho persi non sono più miei sono di quell'anonima persona che mi ha inviato la mail e va a sapere chi è non lo scopriremo mai o ultima storia che mi potrebbe venire in mente di una persona sfortunatissima e una persona che ha fatto un pessimo investimento ha comprato un bellissimo nft e questo nft era venduto da uno sconosciuto che si è fatto pagare su un wallet quindi io ho dato i miei bitcoin a questa persona questa persona mi è venduta l'nft e poi a distanza di sette anni guarda io mi ritrovo con quest'immagine di una scimmia che non ha mercato e non vale niente non la vuole nessuno e l'ho pagata un sacco di soldi però purtroppo è scesa di prezzo è solo che ormai i miei bitcoin ce li ha quella persona là perché gliel'ho pagata a lui quest'opera d'arte quest'nft e quindi non ce li ho più ecco queste questi sono tutti ipotetici futuri che potrebbero capitare e no ok e quindi questi questi sono i modi con i quali una persona potrebbe perdere i propri bitcoin e a quel punto tutta la storia passata ok tu ce li avevi fino a quel giorno però poi te li hanno portati via e quindi guarda ha ragione io ce li avevo fino a quando però non c'erano leggi io non ho fatto niente non ho dovuto dichiarare fare cose quando poi è arrivata la legge mi hanno rubato tutto eh ok è fatta è finita ce l'abbiamo fatta per ora sono vivo perché sto ancora registrando speriamo che questa cosa vada vada bene vada tutto a confievere allora dottori spero che questo contenuto vi sia stato utile prima di tutto poi che vi sia anche piaciuto ora ovviamente qua stiamo facendo questo video pubblico quindi con informazioni che possiamo dare in pubblico con tutte cose interessanti e poi giustamente con alcune persone con cui sono riuscito a parlare a chiacchierare abbiamo fatto delle consulenze mi hanno raccontato cose cosa è successo e basta ok ok quindi insomma sulla consulenza abbiamo vabbè ora potete andare quasi in autonomia cioè sapete quali sono le soluzioni per quanto riguarda poi i mixer applicazioni eccetera eccetera ripeto se vi va che questo argomento vi interessa me lo fate sapere con commenti mi piace e io vedo di preparare subito al volo questi video quindi sia su come comprare totalmente senza che vuoi sì sia come per quelle che hanno già il che vuoi sì fare questo mixing e sparpagliare i vtc perché ora a parte di scherzi ricordiamo che è soprattutto una questione di sicurezza nostra personale quindi scherziamo ridiamo facciamo un po' il coglione facciamo un po' il personaggio eh ma veramente è una questione di sicurezza quindi siamo qui sappiamo come sono le cose poi qualcuno può dire che cazzo me ne frega tanto io ci ho investito 300 euro mi va bene così non ci voglio fare tutti questi sbatti però insomma ognuno almeno è consapevole di quello che può o non può fare detto questo vi lascio anche in descrizione un video registrato un qualche mese fa dove vi mostrava alcuni dei metodi per pagare in cripto in realtà alcuni metodi erano banalmente quelli delle carte quindi pagare con la carta di cripto.com o di binance ma alla fine del video vi mostro anche come pagare direttamente in bitcoin e quindi senza alcun KYC arriveranno altri video ma quello lì intanto vi da già un po' una panoramica di come è possibile pagare con bitcoin in modo totalmente free senza che nessuno si faccia i cazzi vostri dottori grazie mille spero per il supporto che mi starete dando ma si perché lo so vi voglio bene ci amiamo ci vogliamo bene e voi non volete che io vada a finire sotto un ponte vi auguro buona giornata a tutti ci vediamo con il prossimo video a presto 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 a presto